Siamo qui con il professor Armando Bracci e lei è venuta a presentare un progetto oggi al convegno Education 2.0 il progetto si intitola? La robotica come insegnamento trasversale alla matematica e alla fisica Lei insegna, in che scuola insegna? Insegna nel liceo scientifico Cecconi di Vorno, insegno matematica e fisica generalmente nel triennio ma anche nel biegno Ci racconta un po' il suo progetto? A questo progetto serve di dare ai ragazzi una certa concretezza per la matematica, far vedere che la matematica non è astratta e poi stabilire una certa unione fra la matematica e la fisica quindi la matematica viene usata per costruire un modello di comportamento del robot mentre la fisica viene utilizzata per verificare e testare questo modello e poi eventualmente, mediante la matematica, modificarlo quando il comportamento non è consola quanto si aspettava E in pratica che cosa fate in classe con i ragazzi? Con i ragazzi insegniamo a programmare, perché ci vuole sapere programmare il robot utilizzando prima un linguaggio fatto a componenti simili a quello dei componenti Lego perchè il robot è in stile Lego, poi come lezioni teoriche ci spieghiamo dov'è che vogliamo arrivare e poi all'aiuto nostro, mediante la programmazione, loro alla fine dovrebbero riuscire a far fare al robot dei movimenti ben definiti, ben determinati Immagino che il coinvolgimento dei ragazzi sia... Sì, no, i ragazzi si, un po' l'aspetto del robot che è stile, è Lego e quindi è, diciamo, ovviamente nel bienio Poi in certi casi facciamo anche delle gare a chi gli fa fare il percorso esatto, chi arriva prima E poi sulla competizione i ragazzi si coinvolgono tanto Sì, poi a volte abbiamo visto anche lasciando il robot loro in maniera, sì, pura, senza introdurli niente Dopo un po' li fanno fare cose, magari in maniera non sistematica, però le cose li piacciono fare, le fanno Ehm, per quanti ragazzi sono coinvolti? Dunque, i ragazzi coinvolti sono quelli tutti delle prime, dicevo, scientifico e delle scienze applicate Quindi una settantina e per questo progetto l'adesione era volontaria, ma praticamente il 95% dei ragazzi è aderito E quanti docenti invece? I docenti, tutti gli insegnanti di matematica, fisica e informatica, sei Capito E una cosa che migliorerebbe del suo progetto, invece un'altra che è, secondo lei, il punto di forza del progetto? Allora, migliorare forse il numero di robot disponibili, il tempo disponibile per fare certe cose La chiave è il, diciamo, che si impone, si costringe, ma la parola è sbagliata Si invita i ragazzi a riflettere su quello che succede, quindi a risolvere problemi E non lavorare su schemi preordinati, ma a cercare di ragionare e cercare di capire quello che sta succedendo Ma il suo progetto è modellizzabile, cioè replicabile da altre scuole, se sì, con quali accorgimenti, con quali consigli? L'importante, cioè l'unica cosa che è necessaria è avere i robot della Lego, ma hanno un costo limitato Quindi avere un robot per il numero di, al massimo di due studenti, perché devono metterci le mani Quindi in una classe la cosa deve dotarsi per almeno la quindicina di robot E poi per il resto non occorre altro, avere uno spazio di laboratorio e la voglia di farlo Un'ultima domanda, il suo progetto con uno slogan? Saper leggere, scrivere e far di conto Grazie mille